Si terrà dal 17 giugno al 15 luglio il laboratorio di scrittura creativa nell'ambito del progetto Insieme in biblioteca, coesione e inclusione sociale con la biblioteca digitale finanziato dal CEPEL a valere sul bando biblioteche per l'inclusione 2018 e promosso dalla cooperativa Castrom. Il laboratorio ha come obiettivo di fornire alcune tecniche base di scrittura per stimolare curiosità, fantasia e creatività verso il racconto. Il laboratorio è rivolto ai giovani del territorio tra i 13 e i 18 anni, con appuntamenti ogni giovedì dalle ore 18 e 30 alle ore 20 presso il Palazzo Baronale di Torchiara. Il laboratorio è a cura di Genaro Guida. Seguirà un momento di socialità in cui i ragazzi potranno ritrovare il piacere di stare insieme e di condividere un'esperienza costruttiva e di crescita. Al termine del laboratorio sarà pubblicato un libro che raccoglierà tutte le opere realizzate nel corso del progetto. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 giugno 2021, fino ad esaurimento posti, massimo 20 iscritti. Per informazioni ed iscrizioni è possibile inviare una mail a biblioteche perinclusione chiocciola gmail.com Grazie a tutti!